Ritorniamo in studio, musica in apertura della seconda parte del nostro telegiornale. Dal 1 settembre infatti le scuole Pietro Dore e la banda musicale D'Alerci, il cui direttore artistico e docente, il maestro Pietro Dore, hanno aperto le iscrizioni alle lezioni per i corsi di musica. Questi sono stati aperti a bambini e adulti, le lezioni sono personalizzate individuali, i corsi bandistici sono gratuiti, sostenuti dall'associazione banda musicale D'Alerci tramite i servizi civili, religiosi, patrionali e concerti. Hanno la durata triennale e sono finalizzati unicamente a incrementare l'organico dell'associazione. Fra gli appuntamenti che hanno riscosso un caloroso apprezzamento di pubblico, non soltanto cittadino, già da un paio d'anni ci sono il preludio di piccole note in occasione del memory al Giovanni Dore e i saggi d'estate dove gli allievi si sono espressi musicalmente in prove solistiche, duetti e in ensemble, in musiche classiche e melodie internazionali. Chi fosse interessato può rivolgersi in via Colombano 37, da lunedì al sabato, dalle 16 alle 20 o contattare il numero 347 70 29 650. Ed ora lo sport, apriamo la pagina sportiva con il calcio esordio ufficiale in questa stagione per 1945 Aghiero e Fertilia. I giallorossi vincono al Mariotti per 1-0 contro il Castelsardo, i Giuliani perdono invece per 2-1 sul campo della Te Dolce. Le gare di ritorno di Coppa Italia si iterranno domenica prossima. Una vittoria e una sconfitta, questo l'esordio delle due squadre algheresi in questa stagione 2012-2013 in Coppa Italia. Il 1945 Aghiero supera il Castelsardo per 1-0, mentre il Fertilia ha perso 2-1 con il latte dolce. Primo ufficiale in casa al Mariotti per i giallorossi di Calvia, un test importante contro il Castelsardo di Mister Gazzano, anche questo con a disposizione numerosi giovani, per osservare lo stato della squadra. È stato un rigore calciato da Fabrizio Serra, concesso dall'arbitro per un fallo in area su nuoto a definire il punteggio sull'1-0. Una partita non certo esaltante, anche perché la condizione di forma ideale non è ancora stata raggiunta. All'inizio del campionato mancano due settimane. Meglio la seconda frazione di gara, con l'Alguero che si è fatto vedere molto di più di fronte alla porta avversaria. I tifosi non hanno potuto vedere in campo Pierotti, rimasto in panchina, assenti anche a Rigo, Piras e Urgias. Sconfitta invece per il Fertilia di Mister Paba, che sul campo del latte dolce perde 2-1. La squadra sassarese ne ho promossa in eccellenza, conquista la gara grazie a due gol del suo bomber Usai. Le reti della partita, compreso il rigore di Andrea Martinez, che ha fissato il risultato sul 2-1, arrivano tutte nella ripresa, al quarto e al decimo minuto per i sassaresi e poco dopo il quarto d'ora per i Giuliani. Da ricordare che il Fertilia si è presentato all'esordio di Coppa senza due pedine importanti come Sini e Ledda, entrambi squalificati. La squadra di Paba, nonostante alcuni buoni tentativi, non è riuscita a trovare il pari anche dopo essere rimasta in superiorità numerica. Ora vedremo come andrà nelle gare di ritorno, previste domenica 9 settembre. E dal calcio al basket, ieri sera le tenute Sella e Mosca hanno ospitato la presentazione ufficiale della Dinamo Banco di Sardegna. La squadra di basket che anche quest'anno rappresenterà tutta l'isola nel massimo campionato italiano. Nella splendida cornice della vecchia cantina erano presenti numerose autorità politiche, regionali e provinciali. E anche il sindaco di Alghero, Lubrano, i vertici della Palacanestro regionale, sponsor e tanti supporters. Naturalmente occhi puntati sulla squadra presentata dal presidente Stefano Sardare e dalla madrina della serata, la showgirl Melissa Satta. E' stato proprio il presidente a ringraziare tutti gli intervenuti, dicendo come ognuno dei presenti a suo modo sostiene la squadra durante la stagione. In occasione della presentazione abbiamo realizzato numerose interviste che vi proporremo anche dopo i TG. Ma adesso sentiamo il coach della Dinamo, Meo Sacchetti. Coach Sacchetti si prepara per un'altra stagione a Sassari con la sua Dinamo. Innanzitutto come sta la squadra? Ma abbiamo avuto qualche piccolo acciacchino, cose normali, Trevi e Drake praticamente non hanno ancora fatto allenamento con noi. Penso che lo vedremo verso il finire della prossima settimana. Per il resto aspettiamo Ineschi che finisce con la sua nazionale, poi tutto normale. Parliamo dell'arrivo anche di Thornton quindi? Ma sicuramente abbiamo puntato su un giocatore che non rompesse gli equilibri della nostra squadra, che sono già ben definiti, che sappia giocare a pallacanestro e Buzzi è un giocatore che sa giocare a pallacanestro e poi ci piaceva questo suo modo essendo in squadre importanti questa sua professionalità. Che cosa dice Coach Sacchetti della scorsa stagione? Come si può definire? Cosa pensa di questa che arriverà? La stagione dell'anno scorso è stata fantastica, abbiamo raggiunto il traguardo di passare il primo turno dei play-off che ci ha dato la possibilità di fare la Coppa, perciò questo è stato sicuramente una cosa molto importante per la squadra ma penso per tutto l'ambiente sia sassarese che anche sardo e perciò questo è un punto molto importante su questo. Sappiamo che non sarà facile il prossimo anno ma però ogni anno diciamo sempre le stesse cose e se riusciamo a rimanere come abbiamo fatto negli ultimi anni con i piedi per terra e molto sereni vogliamo cercare di fare un bel campionato come l'anno scorso. Ed ora sentiamo invece l'intervista realizzata con il nuovo e importante acquisto della Dinamo per questa stagione Buzzi Thornton, il cestista americano ex di Cantù e Siena in Italia è un giocatore di esperienza che va a rinforzare la formazione sassarese impegnata anche in Coppa. Siamo in compagnia anche di Buzzi Thornton, il nuovo acquisto della Dinamo chiediamo a lui perché è ricaduta la scelta sulla Dinamo. Mi piace come giocano, mi piace l'allenatore, hanno avuto una stagione strepitosa, sembra che si divertono quando giocano. Ho anche giocato con Drake a Siena, quindi così ho deciso di venire. Che cosa si aspetta da questa stagione? Sì, spero come la stagione scorsa di giocare e di divertirmi. E come detto, madrina della serata è stata, come lo scorso anno, Melissa Satta. Nell'intervista che abbiamo realizzato con la Showgirl abbiamo parlato della Sardegna, di basket e anche di calcio. Melissa Satta, madrina di questa presentazione della Dinamo Banco di Sardegna, basket, quindi alla fine non diciamo di essere tutti appassionati ma poi è così perché c'è tantissima gente, tu Sarda, tu a terra la Sardegna, quindi partiamo da qui. Sì, partiamo da qua, sono a casa. Anche se io sono un po' più al nord, però comunque siamo tutti vicini e quindi è anche bello lavorare a casa propria. Ti piace tornare in Sardegna per lavoro, vieni anche per le vacanze? Per le vacanze quest'anno sono stata super fortunata perché mia mamma mi ha riadottato per due mesi a casa, non so da quanti anni non stavo così tanto con la mia famiglia e quindi sì, quando posso e sono libera ci passo il più tempo possibile, poi a volte per lavoro non è sempre possibile, però quando posso scappo e torno a casa. Sicuramente è un piacere per te essere chiamata come madrina della presentazione della squadra che poi rappresenta tutta la Sardegna nel campionato di A1 di basket. Tu segui il basket, il calcio neanche te lo chiedo. Il calcio vabbè sì, però ti dico io sono appassionata di basket e ho sempre seguito l'NBA e ho visto sempre tante partite in America, però dall'anno scorso quando mi hanno chiamato per portare fortuna magari anche a questa squadra, vedevo che c'era tanto entusiasmo intorno e tante persone ci credevano davvero, ho detto ma chissà, in effetti è andata veramente bene e quest'anno Stefano mi ha fatto un'altra telefonata mi ha detto senti l'anno scorso hai portato bene, poi è una cosa, vieni anche quest'anno, tieniti libera e quindi c'avevo questa data da un bel po' di tempo. Allora adesso uso la televisione come mezzo personale, nel senso che tutti sanno che comunque il tuo compagno è Kevin Prince Boateng, io sono milanista, volevo chiederti cosa ne pensi quest'anno della stagione del Milan e soprattutto come andrà Milisa? Porta un messaggio anche da parte mia. Ma guarda io l'ho scritto anche ieri di sera su Twitter, lo sport è fatto così, si perde e si vince, la squadra è una squadra diversa da quella che avevamo l'anno scorso, però io sono fiduciosa, infatti se viste la partita contro il Bologna è andata bene, è normale, insomma sono ancora in rodaggio, sono le prime due partite, secondo me se tutti siamo un pochino più fiduciosi potremmo arrivare comunque lontani. Magari non si vincerà la Champions, però al campionato ci si pensa. Il telegiornale termina qui, vi lascio al meteo e vi ringrazio come sempre per averci seguita, arrivederci.